Sì vabbè con sta moto ragazzi dovrebbe essere anche più veloce invece sta ceppa di minchia Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale siamo ancora con Vlad e questa potrebbe essere una missione che dà un pochino la svolta alla storia e spero veramente sia questa perché se no era prossima e non vorrei veramente avervi detto una cazzata Comunque sia abbiamo nella scorsa recuperato l'auto di Vlad è già il terzo favore che gli facciamo dopo che lui sapete presta i soldi e la gente poi deve ritornargli lì e tra l'altro se è gente che è anche ricca lui ne chiede di più di quelli che avevano già chiesti prima ma questi dettagli sono affari loro e noi ci occupiamo solo di giocare ragazzi quindi bada le ciance andiamo dentro GTA 4 Eccoci qua Ivan the not so terrible Ivan il non così terribile Rispondi almeno Ah Glass of water Glass of water Glass of water Eh mi sa che tra poco lo sia tu Sì 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 Che manica di maiali che manica di maiali ragazzi Sì 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 Frase classica di Nico Allora, la missione della svolta Definitivamente non sarà questa Ma sarà la prossima Ho confuso Vlad con Ivan, scusate Andiamo, andiamo, andiamo Ti chiedessi una volta per favore, oh E beh, è il personaggio E sto capace, dai Troppo gentile l'attore che fa Questo Vlad, però, eh Lasciatemi attraversare, grazie Oh Oh merda Oh merda Sì, vabbè, con sta moto, ragazzi Dovebbe essere anche più veloce, invece Sta ceppa di minchia Comunque io credo sia diretto al porto Se non vado errato, poi magari mi sbaglio, eh Oh E che sbrodolata, però No Fanculo Vabbè, ho perso la missione Veloce Con calma, eh Ok Sto recuperando terreno Ah, si è fermato Perfetto Che culo Mi fossi schiantato 300 metri prima L'avrei persa Ok Ok, mi ricordo No C'è una pistola Me l'ha deselezionata Per non fargli sparare Va bene Grazie, gioco Grazie Eh È il mistero che entra Si diceva Voglio proprio fucile a pompa Ma perché la poli Perché Abbiamo combinata grossa, mi sa Ci mancavano anche i pulotti Bastardi Ci mancavano anche i pulotti Bastardi Vabbè Nico Sei lentissimo Senti Tanto poi In fondo ci arriverai Ah, l'ho ammazzato prima Ah, ok Ora mi ricordo Perché lui arriverà in fondo E tipo Oh Lascia andare PLEASE Vlad Told you to kill me, right? I wasn't stealing nothing from your cousin's place No one's going to know that I'm alive Not even my mother I'll stay out of Hove Beach I'll be a ghost I promise PLEASE I promise to deal with you I don't break promises Ho fatto le cose Prima del dovuto Perfetto Eccolo alla rottura Quindi sì La missione svolta potrebbe essere questa Non ci avevo poi così torto all'inizio Perché Possiamo dire Finale sorpresa Finale sorpresa, ragazzi Bravo Scendi rapidamente E Approciamoci verso Roman Magari con una macchinina Se possibile Aspetta che magari Faccio le cose silenziosamente No Confidavo nel fatto di poter tipo spaccare il finestrino come la GTA 5 E fare le cose silenziosamente Invece mi è andata male, ok Beh, comunque sia testa a Roman Per la prossima missione Noi andremo là Così ci saremo Già Senza Rotture De minchia Roman è esattamente qui E io Con la visione del porto di Broker H. Brooklyn Io vi saluto Vi chiedo Un bel Ditino in culo all'insù Per questo video Anche una piccola iscrizione Che è Premere un tasto Cioè ragazzi È premere un tasto Iscriversi È un premere un cazzo di tasto È fine È fine Punto E magari anche la campanellina Magari qualche notifica Che ci avete le notifiche anche Delle peggio app esistenti Potete avere anche le mie Detto questo Grazie ragazzi Ci vediamo alla prossima E statemi Soprattutto bene Grazie a tutti